Questa mattina nove abitazioni entrano in possesso del comune di Pescara, nove abitazioni confiscate alla malavita. Sindaco Masci, prosegue la marcia verso la legalità che è uno dei punti fondanti del vostro programma? In maniera incessante prosegue. Noi negli scorsi due mesi abbiamo effettuato 20 sfratti di immobili occupati abusivamente. Invece in questo periodo stiamo prendendo possesso degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Ne sono 27 e oggi soltanto ne prendiamo 9 che stiamo requisendo e verificando personalmente per capire bene quali possono essere gli utilizzi che dovranno essere sicuramente utilizzi che riguarderanno il sociale, riguarderanno la cultura perché questi immobili devono tornare in mano alla comunità pescarese. Per troppo tempo sono stati in mano ai delinquenti, alla criminalità organizzata. Oggi invece questi immobili saranno trasformati e riutilizzati per fini sociali. Vogliamo ricordare dove si trovano in quali zone della città questi immobili? In diverse zone della città abbiamo via Tavo, via Colle Marino, via Passo Lanciano, via Sacco. Quindi sono sparsi un po' per tutta la città a conferma del fatto che purtroppo i criminali li troviamo dovunque. Però adesso stiamo conducendo una lotta serrata rispetto a queste situazioni e devo dire che sono molto contento per il fatto che i cittadini per bene scendono dalle loro abitazioni e ci ringraziano per queste azioni che sono assolutamente importanti per dare un segnale chiaro di presenza delle istituzioni, di presenza del comune per una città sempre più votata alla legalità.